Ho avuto la fortuna di incontrare ADMO nel 2011 a Predazzo in occasione di un concerto per sensibilizzare i giovani. In quel momento soltanto tu sei compatibile, solo tu puoi dare una speranza di vita ad un'altra persona e con la vita non si scherza. A te viene chiesto di fare un gesto semplice che però può fare tutta la differenza per una persona malata. Quando il mio gemello di Midollo ha avuto bisogno di me mi sono fatto trovare pronto. Ringrazio ADMO per avermi dato questa possibilità e per aver reso la mia vita ancora più sensata. Quando una persona si ammala, anche tutti quelli che la amano soffrono e restano in attesa della sua guarigione. Il gesto della donazione, che è un gesto d'amore, restituisce vita e speranza a un'intera comunità. Iscriviti ad ADMO e diventa Speranza di Vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti